Il concerto dei Baustelle ha chiuso il Cortona Mix Festival, una manifestazione scelta dalla Regione Toscana per lanciare Fatti Una Storia, la nuova campagna finalizzata a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto di ragazzi gli interventi finalizzati con il Fondo Sociale Europeo e le tante opportunità di Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Nelle immagini vedete le cartoline informative distribuite in occasione del concerto, mentre questo è lo spot proiettato prima dello spettacolo. Il giovane protagonista una mattina si sveglia e una voce lo invita a riprendere conoscenza e a correre al computer per dare un'occhiata alle proposte di Giovani Sì, cominciando così a costruirsi un futuro. Conoscevi già questa proposta? No, non la conoscevo. No, io, nemmeno io. Secondo me è un'iniziativa giusta perché alla fine comunque sia un evento, come un concerto che invoglie molta gente. Per esempio, già io non sapevo cosa fosse questa storia dei fondi europei, adesso so che almeno esistono e se volessi aprire un'azienda so adesso come posso fare. Il Cortona Mix Festival è organizzato nell'ambito dei festival musicali delle colline etrusche. 40 eventi in 5 giorni compongono una manifestazione totalmente multidisciplinare con spazie per la musica, il teatro, la danza e la letteratura. Un'offerta culturale di alto livello in cui è stata inserita la campagna della regione toscana. Penso che sia importante dare opportunità ai giovani di conoscere gli strumenti che possono servire loro per crescere sia da un punto di vista della loro formazione sia da un punto di vista della loro professionalizzazione. Fatti una storia punta quindi a incoraggiare i giovani a conquistare l'indipendenza, a scoprire e valorizzare i loro talenti, a perfezionare gli studi, a conquistare una formazione adeguata per orientarsi nel mondo del lavoro e a dare inizio a una vita professionale e personale. Da ottobre a dicembre il veicolo della campagna di comunicazione sarà il Rock Contest, il più prestigioso talent scouting d'Italia.